e chiama e riceve palla Mancosu poi prolungata per Ciancio avanza per Dumbia, s'accentra Dumbia non cerca la soluzione personale non cerca lo spunto uno contro uno vanno ad allargare il gioco ora cercano la catena di destra per provare a sfondare nel cuore dell'area non riescono ancora il pallone che arriva a Dumbia che sbaglia un'occasione clamorosa e poi c'è il raddoppio del Lecce che ha otto minuti dal termine chiude i conti il Lecce è una squadra che agisce in modo corale difatti anche in questa azione va condiviso il gol in più giocatori proprio perché Dumbia fa un'accelerata in area di rigore molto importante prendendo il tempo alla difesa dell'altro recettino che era in uscita calcia bene e sulla distinta c'è subito Mancosu pronto a ribadire in rete ma se non ci fosse stato Mancosu era pronto Caturano quindi è una squadra che attacca in modo corale proprio perché è una mentalità questa di una squadra che vuole andare a vincere il campionato e allora su questo gol di Mancosu probabilmente svanisce il sogno dell'Alto Vicentino sono sette minuti al termine troppo poco per provare ad impattare questa partita con la stanchezza evidente e con un morale che a questo punto prende un colpo molto pesante grazie a tutti grazie a tutti